Amici e lettori di Corse di Moto bentornati su Corse di Moto TV un saluto ovviamente da parte mia da Andrea Periccioli l'ospite odierno come potete vedere risponde al nome di Edoardo Colombi portacolori per chi non lo sapesse del team Gradara Corse squadra con cui si è laureato nel 2023 campione del trofeo aprile RS 6 e 60 e con cui quest'anno ci sta deliziando a più riprese nel British Sport Bike dove attualmente occupa la prima posizione in campionato ciao Edoardo ciao a tutti tanto come stai? Tutto bene? sì sì benissimo dai sì non c'è male mi sono divertito nell'ultimo fine settimana di gara partiamo proprio da qui perché appunto tu sei reduce da da un bel fine settimana direi perché anzi come lo chiamano nel Regno Unito Bank Holiday Weekend perché avete corso di lunedì però devo dire che il divertimento per chi stava a casa come me non è mancato perché hai vinto però è stata una vittoria insomma è un po' rocambolesca soprattutto per come è arrivata perché al primo via hai dovuto evitare un pilota che era caduto davanti a te in uscita dal celebre tratto del Monta in H2 World Park poi durante la gara hai dovuto un po' rimontare hai sbattagliato prima con Strudwick per la seconda posizione poi nel finale il botto e risposta con Cooper che ti ha eletto vincitore insomma di carne al fuoco ce n'è stata tanta e devo dire ne ha viste un po' di tutti i colori nel corso della gara sì 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 quello sì è stato un weekend bellissimo siamo partiti il sabato a girare e abbiamo fatto le prove libere sul bagnato quindi siamo partiti a girare col bagnato e non è andata diciamo neanche male domenica c'è stata la qualifica secca che era sull'asciutto quindi abbiamo fatto un attimo fatica in qualifica perché abbiamo preso tutti i riferimenti di quel tracciato col bagnato quindi le staccate alcuni tipi di linee le abbiamo presi sul bagnato quindi è stato un po' difficile all'inizio capire bene la pista anche perché è molto difficile molto stretta non esiste mai un punto piano e comunque vabbè in qualifica ci siamo ci siamo posizionati quinti non male e domenica nel warm up il warm up l'abbiamo utilizzato diciamo come una qualifica perché dovevo imparare il prima possibile il tracciato abbiamo provato anche varie cose e il warm up era andato benissimo poi c'è stata la gara come hai detto il primo start e abbiamo fatto due giri davanti a me proprio mi è caduto Stevenson che l'abbiamo l'ho schivato per pochissimo anzi la sua moto mi ha pure toccato davanti sono andato nell'erba poi comunque fortunatamente siamo riusciti a rimanere in piedi e dopo il restart della gara i primi giri ho fatto un po' di fatica perché dovevo capire bene il passo ancora ero lì un po' tintillante sul sul passo gara verso il sesto giro quando ho iniziato ad avvicinarmi tanto a Strudwick da lì in poi quando l'ho passato come obiettivo avevo di andare a prendere Cooper perché sapevo che lui era quello che si si gioca con me il campionato quindi il mio obiettivo era andare a prender lui ho iniziato ad avere un buon passo a girare molto forte e quando l'ho preso ho cercato di passarlo subito perché volevo comunque fargli vedere che ero lì e nulla è stata veramente una gara bellissima anche perché poi l'ultimo giro nella prima curva lui mi ha ripassato poi io l'ho ripassato in staccata e da quel punto lì sono riuscito a dare quei due tre decimi che mi hanno riuscito a a far vincere diciamo con un pelino più di tranquillità comunque sono pochi tre decimi però si è arrivati veramente in volata ora non proprio al photo finish però è stata una corsa sudata fino alla fine ecco proprio per le caratteristiche del tracciato che è un po' riconosciuto come quello più anacronistico di tutti nel Regno Unito forse insieme proprio a Truxton che è uno degli ultimi dove avete corso possiamo definirla come come un'impresa comunque forse è stata la vittoria più bella di quelle che ha conquistato finora anche per il modo in cui è maturata cioè te oggettivamente nelle prove non eri il pilota di riferimento esatto cioè l'hai costruita in gara poi migliorando magari forse stando dietro anche ai piloti come Cooper Strudwick che in quelle piste ci corrono da tanti anni può averti aiutato a capire bene quali linee prendere e migliorare i suoi tempi sul giro sì con quello sicuramente sì anche perché siamo arrivati lì consapevoli che quella pista lì era la pista più difficile del campionato quello era poco ma sicuro e sicuramente star dietro a Cooper e Strudwick che corrono lì da anni e anni ha fatto tanto anche perché girare da solo alla fine si può andare forte però avere qualcuno che all'inizio si dà qualche riferimento non è male ecco anche per il salto eh beh quello devo dire abbastanza adrenalinico sono entrato il primo giro mi sono visto sto muro davanti e ho detto ma dove siamo ovviamente stiamo parlando del salto del mountain che è il punto simbolo il punto iconico di Cadual Park e anche dell'intero British Superbike fondamentalmente sì senti parlando un po' di numeri per te quella di Cadual Park è stata la settima vittoria in 11 gare finora disputate siccome un po' tutti guardiamo con interesse alla Sportbike che sarà poi la classe del futuro che sostituirà nell'immediato nel circus del mondiale Superbike l'attuale Super Sport 300 e che per te è un obiettivo dichiarato su questo non ci sono dubbi ti chiedo in questa prima parte di stagione questi tre quarti di stagione che sono andati in archivio si sta raggiungendo un equilibrio tra le varie moto in pista si allora siamo partiti dalla prima gara e le moto limitate eravamo noi e la Triumph ci avevano chiuso vabbè c'erano dei vari regolamenti varie cose limitate che già la prima gara diciamo comunque aprile e Triumph erano le moto che diciamo se la potevano giocare un po' di più dopo Hulton hanno messo dei regolamenti aggiuntivi per la Yamaha perché gli avevano dato già un kit per farle andare un kit per più cavalli e dopo gli hanno dato qualche aggiunta e da lì in poi la Yamaha è diventata una bella moto nel senso che ha il passo per stare anche con l'aprile e con la Triumph infatti si è visto perché poi ora è vero che a Dual Park ripetiamolo è un circuito che fa sempre un po' storia a sé però in pole c'era un pilota Yamaha ovvero Barnes certo ma anche per esempio a Truxton le Yamaha andavano veramente forti si 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 l'unica moto che adesso in questo momento sta facendo fatica è la Kawasaki la 650 si e fa veramente molto fatica quella che un po' manca là davanti e per quanto riguarda la Privia te l'aspettavi che fosse così subito competitiva te lo chiedo perché o meglio è competitiva oppure ci stai mettendo tanto del tuo ribalto la domanda perché finora sei tu quello dei piloti equipaggiati della RS 660 che lottano continuamente per la vittoria cioè gli altri forse stanno facendo un po' più fatica è una coincidenza oppure ci stai mettendo tu una pezza no allora noi siamo arrivati lì consapevoli che comunque c'erano altre moto e consapevoli che quelle altre moto lì non sapevamo sinceramente come erano e l'Aprilia si è fatta vedere subito competitiva subito una moto competitiva insieme alla Triumph all'inizio veramente quelle due erano le più competitive però noi siamo arrivati lì con l'obiettivo di dire il nostro obiettivo è essere le prime Aprilia perché ovviamente non sapendo le altre moto come andavano l'obiettivo è essere le prime Aprilia invece l'Aprilia si è fatto vedere veramente come una moto molto molto competitiva e ecco siccome magari tanti non conoscono nel dettaglio anche qual è la realtà gradara corse che è un team italianissimo che in Italia comunque da diversi anni si impegna nelle classi cib e anche più recentemente nel femminile però ha voluto cimentarsi con te in questa nuova sfida immagino che anche per loro sia un'esperienza abbastanza impegnativa perché sai magari vediamo nel Regno Unito ci sono team supportati ufficialmente da case costruttrici voi alla fine siete un piccolo team certo avete l'interesse dietro di Aprilia però alle gare fondamentalmente andate in 3-4 persone quindi è un impegno massiccio da parte loro sì per loro veramente è un impegno come come per noi anche perché comunque non sembra ma gli spostamenti in Inghilterra sono molto pesanti anche dall'Italia andare in Inghilterra è molto pesante poi noi siamo arrivati lì e abbiamo visto come hai detto te ci sono molti team supportati come Triumph Yamaha è superato ufficialmente noi siamo lì in 3-4 persone e all'inizio all'inizio eravamo molto spaisati all'inizio veramente siamo arrivati abbiamo detto dove siamo nel senso non capivamo niente abituati a GIV tutt'altra vita esatto ci siamo fatti valere e vedere perché team italiano e piloti italiani che vanno lì e riescono subito a vincere è una buona visibilità anche per loro anche per il team e Aprilia in tutto questo quanto si sta seguendo cioè senti supporto da parte loro sì a me Aprilia io non ho nessun contratto con Aprilia abbiamo solo parlato ripetiamolo cioè te sei sotto contratto con il team Gradara però comunque Aprilia ti sta tenendo d'occhio questo lo possiamo dire esattamente sì mi sento supportato perché mi vogliono mi vogliono bene e credono in me e quindi questo mi aiuta tanto anche nei weekend di gara siccome giustamente ha detto un pilota italiano un team italiano vanno a correre all'estero in questo caso nel Regno Unito magari possono destare un po' un po' di curiosità ed è così perché insomma in Italia fondamentalmente la tua presenza lì ha generato ha suscitato un certo interesse come dire ti aspettavi di essere subito così veloce pronti via e soprattutto man mano che arrivavano le vittorie hai sentito un po' più di pressione magari anche da parte nostra della stampa che ti seguiamo con un occhio di riguardo sì allora siamo arrivati lì il livello ovviamente non lo sapevamo anche perché è categoria nuova non sappiamo in Inghilterra il livello in sede dei piloti com'era però noi siamo partiti dicendo non è l'obiettivo è di stare davanti sì ma se non vinciamo non è un problema quindi noi siamo arrivati lì come per dire noi facciamo la nostra esperienza e vediamo come va quando poi la prima gara siamo riusciti subito a stare lì davanti nei primi lì abbiamo detto ok ci siamo e man mano nelle gare dopo tutte le vittorie e verso la gara scorsa a Truxton si iniziava già a sentire un po' di più l'ansietta ma l'ansia che ti metti te stesso oppure che ti possono generare occhi esterni no che possono generare occhi esterni ok ma è a proposito oltre magari alla stampa italiana che giustamente come avevo detto ti può seguire giustamente con interesse con un occhio di riguardo in generale come sei stato accolto dall'opinione pubblica britannica molto bene devo dire perché ok la prima gara ci hanno visti un po' strani però dopo veramente ci sono fatti cioè come dire ci hanno voluto subito bene nel senso le persone là sono molto sportive quindi ok se sei italiano non gliene frega niente anzi sono contenti che tu arrivi qua e vai bene quindi no noi siamo stati accolti veramente benissimo nulla da dire su questo beh poi te per parecchi anni sei stato abituato ai contesti del Cib poi catapultarsi così nel Regno Unito dove lì veramente la passione è uno degli elementi imprescindibili di chi vive negli UK si fa sentire e anche nei weekend di gara del BSB insomma si registrano a volte sempre i 20 30 mila spettatori per gara quindi insomma anche per te devo dire sia un'esperienza proprio da vivere a tutto tondo sì è veramente impressionante noi siamo arrivati lì la prima gara che abbiamo visto tutte quelle persone abbiamo detto ma sembrava il paddock della superbike non c'era il paddock non c'era vivuta no c'era un sacco di persone tante attività comunque per gli spettatori c'erano da fare e vedere subito che quando abbiamo vinto erano contenti che un italiano aveva vinto molto bello anche perché il tifo era enorme sì sì è un'esperienza sicuramente da vivere al massimo è bello perché ora non sei il primo italiano che corre nel BSB però ho un sentimento comune anche ne abbiamo parlato più recentemente con cane con altri piloti che si sono scimentati appunto in questo caso nella top class superbike nonostante gli inglesi siano riconosciuti come persone tradizionaliste storicamente hanno sempre accolto di buon occhio piloti stranieri e soprattutto italiani chissà perché ecco abbiamo parlato del pubblico dopo le tue prime vittorie si sono rincorse varie voci sui possibili malumori più o meno confermati dei tuoi avversari siccome finora al di là di Truxton dove le due gare avevano proposto più contendenti alla vittoria di base il british sportbike sta proponendo tu e cooper come piloti di riferimento tra di voi com'è il rapporto il rapporto diciamo che è normale non ci si parla tanto però non siamo nemici capito una sana rivalità una sana rivalità esatto quando siamo in pista si lotta quando quando si è nel paddock ci si saluta si sta un attimo assieme si parla normalmente e e niente è tutto normale diciamo beh poi per chi non lo sapesse insomma Richard Cooper è un pilota che nel palmarès vanta due titoli britannici nella Superstock 1000 vittorie e podi nel BSB quindi ed è collaudatore ufficiale triunfo quindi ha tante esperienze da vendere però insomma c'è stato un periodo in cui effettivamente sembrava che non dico che forse si poteva aspettare di non trovare così tante difficoltà almeno in partenza secondo te c'è il rischio che possa aver sottovalutato in generale la categoria e forse anche te quello no perché comunque anche durante le interviste Cooper è contento del nostro lavoro e ha detto che comunque siamo il miglior abbinamento moto-pilota e che siamo di un livello alto quindi sentire anche queste parole da un pilota che nel campionato britannico ha tantissima esperienza è un onore nel senso è l'attestato di stima sì sì esatto ma infatti mi sembra ieri sera proprio lo stesso Cooper ha pubblicato un post su Instagram dove ha detto sono stato battuto dal pacchetto pilota moto migliore quindi se c'altro ha capito con che razza di avversario si è ritrovata a correre a correre quest'anno ecco curiosità mia personale in più di un'occasione ho notato che hai messo alcune storie con cioè alcune storie su Instagram con Kyle Ride sì hai legato in modo particolare con lui sì ed eventualmente anche con altri se ce ne sono sì sì con Kyle Ride molto perché la prima gara eravamo molto spesati come ho detto prima suo padre ci ha visti che non capivamo molto ed è venuto ad aiutarci sotto la tenda e da lì si è installato un bellissimo rapporto con loro anche perché alla prima gara a Holton io ho avuto un problema con la tuta con l'avambraccio per esempio lui non ci conosceva è venuto lì e fa ho capito che problema c'hai vi aiuto io mi ha fatto fare anche delle sedute dalla loro osteopata per esempio e da lì si è installato un rapporto durante le gare magari facciamo anche i giri di pista assieme a Cadwell che avevo molte difficoltà all'inizio in alcuni punti lui girava per la pista con lo scooter e veniva nella mia tenda e mi diceva cosa potevo migliorare e sì sì no con quello veramente sono delle bravissime persone bene sì Kyle Ride pilota ONG Racing Yamaha che tra l'altro si sta giocando il titolo del British Superbike perché attualmente è secondo in campionato a 19 lunghezze da da Tommy Bridewell fai un po' il tifo per lui guardandolo dall'esterno sì 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 nella categoria Superbike al VSB io tifo per lui perché è simpaticissimo finisci pure finisci pure no perché è simpaticissima una brava persona mi ha aiutato quindi non conoscendo comunque le persone i piloti che c'erano lì a parte Irwin e Ickman che sono quelli molto più conosciuti comunque no io tifo per per Kyle secondo te ci sono delle possibilità che riesca a battere Bridewell sì perché io di testa lo vedo molto molto a posto diciamo molto concentrato anche durante le gare e è un ragazzo comunque giovane e ha da far vedere come come me come altri ragazzi nel VSB quindi sì secondo me riesce a giocarsela ecco il fattore psicologico sarà anche uno degli elementi imprescindibili in questo tuo finale di stagione perché mancano tre round alla fine di questo 2024 conservi quattro punti e mezzo di vantaggio con Cooper tutto può ancora succedere però forse possiamo dire che il peggio tra virgolette passiamo il termine è passato nel senso che questo finale di stagione proporrà tre piste dove avete già corso quindi dove ha già acquisito dei riferimenti e magari può affrontare forse con più spensieratezza certi weekend di gare magari possono essere anche un'arma a tuo vantaggio sì sicuramente non dobbiamo fare cavolate nel senso le prossime tappe i prossimi prossimi round sono comunque pista che abbiamo già visto dove abbiamo fatto molto bene quindi diciamo siamo leggermente più tranquilli però dobbiamo comunque stare con la testa alta perché non si sa mai cosa succede e sicuramente dobbiamo rischiare fino a un certo punto e vedremo è tutto da vedere bisogna usare molto la testa perché siamo molto vicini in campionato e una piccola sbavatura può creare veramente dei casini nel campionato anche perché a livello di punteggio nel campionato inglese è diverso cambia esatto il primo prende 25 punti il secondo 22 il terzo 20 tutto a scalare è molto tutto molto più vicino più vicino sì però volendo ti potresti anche accontentare di una seconda posizione visto che tra prima e seconda anziché cinque punti ce ne sono tre se proprio ce ne fosse l'occasione ovviamente poi si sa che i piloti entrano in pista puntando sempre alla vittoria quello sì certo ecco venendo a te personalmente siccome sei un ragazzo molto giovane diciottenne vincitore di un campionato in Italia che così di punto in bianco si è ritrovato proiettato in una dimensione completamente diversa nel Regno Unito un altro paese altre persone con cui interagire piste realtà e tutto e soprattutto come hai detto prima anche tu giustamente dovrà a che fare con gli spostamenti gli aerei eccetera eccetera quale insegnamento di vita stai ricevendo da tutta questa esperienza mi sta facendo sì sì mi sta facendo crescere molto per essere più responsabile di me stesso anche perché capita che tante gare devo andare magari da solo e andare in Inghilterra da solo ok ho 18 anni però comunque arrivi là c'è il team però tutto il resto fai tutto da solo ti fa crescere molto a livello anche di testa esatto a livello umano esatto e quindi no veramente è un'esperienza fantastica ti senti più responsabilizzato forse a quel punto esatto oltre a essere una bellissima esperienza per il mio per la mia carriera diciamo di adesso anche a livello umano è veramente un'esperienza fantastica ecco siccome hai detto che ora di tanto in tanto si capita di andare a legare da solo però siccome io ti seguo da tempi del CIV non ho mai fatto a meno di notare che una figura imprescindibile che non manca mai a legare è tuo padre quanto è importante per te lui averlo anche a fianco poi magari ci può stare che in certe situazioni non ci possa essere viste le distanze che intercorrono con l'Italia però è importante è un piccolo punto di riferimento per te sì sì lui mi ha sempre seguito dappertutto e quando c'è mi tiene tranquillità quindi se succede qualcosa lì a demi tranquillo non c'è nessun problema non è uno che si mette in mezzo quando ci sono magari da valutare delle cose nel team quindi si fa molto sta molto nelle sue però mi aiuta a tenermi tranquillo quindi sì sì è importante che venga però per il discorso scolastico cosa ne penso per il discorso scolastico niente anche perché vado vado bene a scuola vabbè però restate quindi quindi non devi studiare esatto no però la prima cosa che lui mi dice vai bene a scuola e poi corri in moto perché ok le moto danno un futuro potrebbero darti un futuro esatto è molto difficile però potrebbe essere però un pezzo di carta in mano per andare a lavorare ce lo devi sempre avere quindi prima la scuola e poi quello che ti piace vediamo dai ora intanto se poi andrà bene questo questo finale di stagione magari chi lo sa sì adesso ma l'ultimo anno devo fare l'ultimo anno quindi eh beh poi c'è l'esame di maturità è un po' tosto devo dire che saranno messi frenetici sotto tutti i punti di vista sì molto molto anche perché comunque non saprò cosa andrò a fare l'anno prossimo cosa c'è cosa farò l'anno prossimo nel moto ancora cioè hai delle idee in mente ma per per le moto in generale sì sì anche o se poi dopo l'esame se vuoi anche iscriverti all'università dopo l'esame penso di fermarmi il primo anno ok per valutare un po' la questione moto quindi vedere se se la strada delle moto va davanti se no penso di di verità non lo so perché è un po' la mia testa adesso come adesso non c'ho non c'ho proprio mente di finire le superiore e andare all'università cioè non mi passa per la testa però magari più avanti tra un anno comunque cresce di testa magari cambierò non lo so un'ultima domanda un po' più un carattere generale siccome in Italia si sente dire spesso che il CIV magari il campionato come il CIV non non brulica molto di prospetti che non si dà che le squadre magari non danno troppe opportunità ai giovani piloti che stanno emergendo eventualmente te consiglieresti anche un ragazzo di 18 anni come te di provare a trovare uno sbocco altrove nel Regno Unito sì perché oltre al fatto delle persone che sono là secondo me ti fa crescere molto ti fa crescere molto l'Italia ok noi siamo andati in Italia quindi il campionato che andiamo a fare all'inizio è il campionato italiano però secondo me riuscire ad andare a spostarsi anche solamente in Inghilterra sì potrebbe essere una bella strada pure magari in Germania cioè ce ne sono tanti ce ne sono i campionati validi all'altezza in giro per l'Europa e va bene quindi io con questa domanda avrei concluso noi ovviamente da parte di corsi di moto ti facciamo un grosso in bocca al lupo per i conclusivi tre appuntamenti della stagione grazie mille perché ne avrai tanto bisogno sì molto sei già il pilota più vincente nel Regno Unito poi vabbè qualcuno dirà eh vabbè ma è la sportbike certo però intanto in pista ci si deve andare al traguardo la moto ce la si deve portare quindi tanto di cappello Edoardo poi se arriva anche il titolo bene se no io immagino che comunque questa stagione te la conserverai con te e te la porterai avanti ci potrai costruire anche un bel futuro perché sta veramente dimostrando tutte le tue qualità in pista grazie mille grazie sicuramente sì rimarrà mi rimarrà impresso costruirai gelosamente anche perché immaginiamo qua c'è tatuato per inzaccio quindi è la pista di prensacce esatto rimarrà con me sicuramente prensacce ovviamente con questo tatuaggio è entrata di diritto nell'elenco delle tue piste preferite dove hai corso finora sì sì prensacce è veramente una pista fantastica piccola curiosità poi veramente concludiamo come mai te lo sei fatto il tatuaggio allora è molto una cavolata nel senso vediamo in retroscena sono arrivato lì la domenica mattina c'era tutto lo staff Monster Energy e c'era la tenda con sotto tutti i tatuatori della Monster e fuori sul tavolino c'erano tutti i tatuaggi già fatti che potevano far loro io vado lì guardo osservo e vedo la pista di prensacce che ho scritto prensacce PSP 2024 quando l'ho visto ho detto non posso non farlo ho detto lo faccio l'ho fatto prima di fare la gara poi ho vinto la gara quindi ha ancora un significato aggiuntivo ha portato fortuna ha portato fortuna io quasi quasi a questo punto valuterei di fare un tatuaggio prima di ogni gara non lo so poi valuta te mi tatusi tutte le piste così magari va bene grazie mille edo grazie anche per questi piccoli retroscena che hanno impreziosito la nostra intervista ovviamente io vi invito a restare su corsi di moto per seguire l'evolversi del finale di stagione di Edoardo nuovamente in bocca al lupo grazie per la disponibilità e ci vediamo alla prossima ciao grazie mille veramente a voi ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti